Good morning Milano, benvenuti, good morning Milano a tutti e a tutti, buongiorno, ben ritrovati, oggi è mercoledì 29 maggio, anche maggio sta per arrivare alla fine e quindi siamo qua a raccontarvi un po' tutto quello che succede in nostra città, come sempre con i giornali davanti, con i siti di informazione locale, con i vostri whatsapp che possono arrivare alla 331 78 53 555, con tutto quello che volete dirci, raccontarci, farci vedere, insomma anche le foto potete mandarci tranquillamente in queste giornate appunto di fine maggio che passiamo insieme dalle 7 alle 9 qui su Crystal Radio. Ben ritrovati, ben ritrovati, 96.2 FM, Dub Plus in tutta Lombardia, applicazione per iOS o Android, ovunque voi siate e poi i nostri siti internet, crystalradio.it per ascoltare la diretta oppure goodmorning.milano.it per riascoltare, rivedere, rivivere ogni momento della nostra trasmissione, compresi gli ospiti, le rubriche, insomma tantissime le cose che facciamo ogni mattina, ieri siamo stati in diretta, diciamo collegati in diretta con Edicolo Alambratte che aveva aperto pochi minuti prima e che quindi ci stava raccontando la prima mattina davvero edicolante di Alessandro Ghidini, oggi avremo altri ospiti qui in studio con noi, insomma tutte le mattine cerchiamo di darvi una spaccata, una finestra, una visione della nostra città e così cerchiamo anche di farlo ovviamente con la grande e bella musica che passa qui su Crystal Radio, grazie anzi all'ufficio programmazione sempre per le grandi scelte musicali che fa e poi anche a voi invece per essere sempre in nostra compagnia. Iniziamo con la musica, Noel Gallagher's and I Fly Birds, Easy Now. Noel Gallagher's, I Fly Birds con Easy Now e soprattutto attenzione perché abbiamo ascoltato, perché abbiamo ascoltato, Gallagher perché abbiamo ascoltato Noel Gallagher perché oggi, il 29 maggio, è il compleanno di Noel Gallagher, nato nel 1967, compie 57 anni, nato a Manchester, Regno Unito insieme al fratello Liam ovviamente sappiamo essere uno dei leader fondatore degli Oasis, questa appunto è la nuova stagione musicale da solista insieme a questa I Flys Band con cui va in giro, fa questi concerti, complimenti, sempre insomma il suono, infatti il suono è quello, comunque insomma si riconosce il suono e si riconosce che è quello. Allora, so che molti di voi si domandano cosa sta succedendo, finalmente è arrivato il bel tempo, sembrerebbe che per adesso tenga, nel senso che dalle previsioni del tempo del meteo di oggi i vari siti internet e compagnia cantante che c'è in giro non danno precipitazioni per oggi, nubi sparse, quello sì, ma non precipitazioni, comunque temperature in salita perché arriveremo a una massima intorno ai 25 gradi, ancora comunque, insomma una temperatura piacevole comunque che si può ancora gestire speriamo ancora per un po' di giorni, insomma prima che arrivi il caldo torido che sicuramente arriverà cioè se sulla pioggia magari abbiamo qualche dubbio ma sul caldo torido che arriverà quello è poco ma sicuro è arrivato anche il whatsapp di Alberto, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Crystal Radio, al direttore Fabio e alla redazione buongiorno a te Alberto, come stai? Ci chiediamo stamattina, visto che sappiamo che ieri non stavi molto bene, ci ascoltavi dal letto speriamo che tu stia meglio oggi, insomma che ci possa ascoltare magari facendo colazione in cucina tranquillo oppure insomma assorseggiando un caffè senza grossi problemi, insomma speriamo che tu stia meglio quindi auguri anche ad Alberto di pronta guarigione, speriamo appunto che anzi sia guarito magari nel frattempo tanti di voi appunto ci scrivono sempre ogni mattina, ve lo ricordo appunto il numero che è il 331-7853-555 detto così ma bisogna fare così se no non funziona e poi vi ricordo appunto che potete condividere con noi tutta la vostra routine matutina anzi grazie come sempre, so che mi ripeto su questo ma grazie davvero per farci entrare insieme a voi in questi momenti importanti della vostra giornata Alberto ci ricorda anche che quest'oggi si apre ed è vero è così infatti qui c'è già un po' di fermento da ieri nella zona San Siro perché si apre la stagione dei grandi concerti a Milano questa sera ci sono in Metallica alla Maura, l'alipodomo alla Maura esperimento fallimentare diciamolo semplice ma vi voglio dire tranquillamente così di arena concerti, un'arena concerti che non va bene per milioni di motivi questa sera Metallica quindi migliaia, decine di migliaia di persone che si riverseranno in un luogo che non nasce per essere un'arena concerti in un quartiere che non è pronto ad accettare e a poter assorbire soprattutto tutte quelle migliaia di persone che vanno lì tra parentesi ci va bene che hanno annullato il concerto di Bruce Springsteen a San Siro perché sennò oggi Metallica, domani la gente Metallica che andava via nel frattempo era quella di Bruce Springsteen cioè quindi era un disastro il problema è che ci saranno comunque delle date, adesso non ho qui sotto la lista precisa ma ci saranno comunque delle date in cui ci saranno i concerti sia allo stadio di San Siro che alla Maura che si arrivano tutti, che comunque arrivano tutti poi al fermata metropolitana di San Siro che già non è capace di gestire gli 80.000 che vanno a San Siro quando c'è una partita pensate cos'è quando magari ne vanno 70.000 a San Siro per un concerto e altri 70.000 alla Maura per un altro concerto va bene, sentiamo invece il traffico, luce verde Ben like this, Megan Trainor, 7.36 minuti ben ritrovati ancora qui su Good Morning Milano Crystal Radio 96.2 FM e ci ha raggiunto in studio un ospite e quindi diamo il benvenuto e il buongiorno a Michele Giacalone Funzione pubblica CGL in Lombardia per quello che riguarda i vigili del fuoco in quanto capo reparto operativo e anzi il coordinatore di vigili del fuoco Buongiorno Giacalone, come va? Buongiorno a tutti voi, grazie per l'accoglienza Grazie a lei Giacalone di essere venuto siamo contenti insomma di avere ancora la Funzione pubblica CGL che insomma ci racconta sempre delle cose interessanti su quello che appunto sono quelle funzioni che hanno a che fare con noi cittadini che voi speriamo di incontrarvi il meno possibile perché se si dice... No, noi ne abbiamo fatto anche cose non sempre disastrose diciamo, quindi per fortuna anzi siete importanti tanto quanto appunto la Funzione pubblica che è tutte quelle realtà che hanno a che fare con da una parte appunto sono pubbliche e hanno a che fare con i cittadini poi quando ci interfacciamo in questo caso parliamo di vigili del fuoco perché insomma... Beh, bello, siete i nostri eroi perché per questo, no? Racconto è questo già come siete i nostri eroi grazie che ci siete vi vogliamo bene e tutto però poi insomma non è così semplice fare il vigile del fuoco e non solo per quello che state pensando voi a casa cioè non è solo un discorso del pericolo il fuoco le situazioni in distanza no, anche perché insomma è un lavoro che non è che proprio abbia tutte queste tutele sembrerebbe almeno da quello che appunto la FPGL Lombardia porta avanti ma insomma anche lì nella nazionale in realtà Sì, confermo Allora intanto volevo cominciare con una con un aneddoto voi come programma radiofonico vi occupate di musica appunto poco di musica vorrei partire proprio dalla famosa canzoncina che sentiamo spesso canticchiare quando passiamo quando c'è la presenza del vigile del fuoco la canzoncina quella il pompiere paura non ne ha ecco, sì e proprio qua mi vorrei soffermare che non è proprio vero che il pompiere paura non ne ha il pompiere ha paura e ha paura oggi sempre di più per la propria salute abbiamo paura per la nostra salute è un lavoro a rischio e la nostra salute è sempre più a rischio quali sono questi rischi? perché qualcuno pensa è ovvio grazie a cavolo andate in mezzo agli incendi è ovvio che è il rischio ma non è quello non è la paura di quel rischio è la paura proprio delle malattie ecco malattie della salute rischio di malattie cardiovascolari malattie tumorali malattie che sono riconducibili anche allo stress post intervento l'intervento ha un suo stress non indifferente immagino e allora gli ultimi dati sono veramente sconcertanti io vi dico solo che l'OMS che serve l'organizzazione mondiale della sanità legge testalmente ha rilasciato cioè ha riclassificato la lotta antincendio quindi è collocato i vigili del fuoco al più alto livello di rischio professionale legato proprio al cancro e quindi questa decisione è stata è arrivata dopo un lavoro approfondito fatto dall'AIRC ok quindi su questo non ci piove quindi per la scienza siamo una categoria a rischio a rischio di cancro a rischio di malattie cardiovascolari a rischio di stress legato proprio al nostro al nostro tipo di lavoro però la nostra amministrazione proprio ecco è proprio quello la nostra amministrazione non ha mai monitorato questi dati non esiste un sistema di monitoraggio adeguato e in più continuiamo a non avere una copertura INAIL incredibile ma vero fermi tutto fermi tutto ferma tutto qua Giacaloni allora cosa significa che non avete una copertura nel senso ce l'ha chiunque nel senso adesso non vorrei dire ma nel senso l'assicurazione INAIL ogni lavoratore che ha un rischio anzi ci sono le classi di rischio INAIL adesso dico una cosa anche i nostri tirocinanti che vengono qui a fare il tirocinio curriculare hanno una categoria INAIL e l'università fa la categoria INAIL è un paradosso è un paradosso è un paradosso noi non ce l'abbiamo non abbiamo una copertura INAIL non siamo considerati una categoria usurante ok non facciamo parte di quelle categorie alla faccia quindi e se non è usurante il vigile del fuoco vorrei sapere quale lavoro lo sia nel frattempo comunque è arrivato un whatsapp da Alberto che dice un saluto particolare a tutti i vigili del fuoco quindi vedi che subito come i cittadini comunque vi vogliono bene c'è poco da fare indubbiamente in questo siamo ben felici ecco vi vuole essere bene che qualcun altro sarebbe meglio raggiungo io allora da anni la CGL si batte su questi su questi temi appunto per pronunciare la cosa la famosa particella passa cos'è questa particella passa io l'ho letto sia sui vostri comunicati vi ho trovato anche dei comunicati della funzione pubblica del Friuli quindi insomma è una roba nazionale cioè avete scoperto avete provato alla luce la particella pazza che cos'è la particella pazza? allora è una particella piccolissima che è presente su tutti i residui della combustione quindi il famoso il fumo nero che vediamo durante gli incendi là si annida questa questa nanoparticella è un lavoro di ricerca effettuato dal nostro responsabile di salute e sicurezza di funzione pubblica CGL a Roma ed è spiegata in svariate iniziative e occasioni sia in Italia che anche all'estero è uno dei veri intollerabili problemi per la salute dei vigili del fuoco in poche parole i nostri DP dispositivi di protezione che non sono solo le mascherine per capirci da voi che ascoltate è tutto il vestito la tuta il casco non sono sufficienti appunto per intercettare queste nanoparticelle che filtrano attraverso l'epidermide ci contaminano una buona decontaminazione post incendio potrebbe essere una minima soluzione al problema ma ci vogliono altri DP di ricambio noi ne abbiamo 82 e qui Giacomo lei dà per scontato le cose ma come due cioè voi avete la tuta la bellissima tuta che ogni bambino vorrebbe avere che noi quando noi vediamo passare rimaniamo a bocca aperta quante tutte ha un vigile del fuoco due in dotazione quindi se io quel giorno la sporco perché faccio un incendio grosso il giorno dopo metto un'altra la sporco perché faccio un incendio grosso devo correre a prenderla prima che magari non l'ho comprata perché in lavanderia giustamente almeno una settimana passa e qui devo rimettere quella sporca certo gli do una scollata e via certo la lascio fuori a prendere aria cosa che facciamo ma almeno di tuta ne abbiamo due ma il casco il nostro elmo e il sottoelmo è una cosa molto delicata anche il guanto da lavoro quello ne abbiamo soltanto uno come uno sì e come fate a cambiare un sotto casco o un paio di guanti quindi lì lo lavi lo soffi con l'aria capite il mio stupore nel sentire queste cose perché davvero non se lo aspetterebbe mai qualcuno che ci sia questa situazione Giaccarone la fermo un secondo andiamo con una canzone poi torniamo ancora però a parlare perché sono tante anche le altre situazioni che state cercando di portare alla luce anche perché non credo sia facile appunto in una situazione del genere riuscire poi a lavorare serenamente tranquillamente sappiamo che spesso poi non è è una questione anche di famiglia a volte il Vigile del Fuoco che bello anche quello si passa di padre in figlio si passa magari ai figli si passa anche adesso magari anche alle compagne alle moglie perché sappiamo che finalmente sono arrivati anche i e sulla donna e allora Adele con Set Fire On The Rain Adele Set Fire On The Rain ovviamente non potevo che non mettere una canzone con la parola Fire nel titolo ovviamente perché stiamo parlando con Michele Giaccarone della Funzione Pubblica Lombardia per quello che riguarda i Vigili del Fuoco capo reparto operativo dei Vigili del Fuoco allora stavamo dicendo come appunto quello che sembra tutto per noi così scontato in realtà non è ad esempio le dotazioni che avete dovete portarvi a casa l'intimo da lavare e perché parliamo di intimo perché quella famosa particella pazza di cui parlavamo prima questa particella micro-esimale infinitivisamente piccola che passa dappertutto ve la ritrovate anche sui vostri indumenti certo la nanoparticella che penetra attraverso i nostri DP quindi anche il nostro intimo che poi portiamo a casa a lavare andiamo a contaminare di fatto anche nelle nostre famiglie anche le vostre famiglie e questa nanoparticella può portare a delle malattie molto anche molto gravi che mi dicevi a volte però vengono diciamo in un certo senso adesso passatemi in termini nascoste nel senso che perché c'è una problematica legata al fatto di se si sa che sei malato e guarisci va bene tutto però poi non sei più operativo giusto come funziona questa cosa certo diciamo che è un paradosso oltre danno alla beffa cioè un vigile del fuoco che contrae una patologia così grave di fatto poi perde l'operatività quindi di fatto viene traslato viene preso e portato nel reparto degli amministrativi quindi passa sotto il settore amministrativo e qui non è un problema infatti qui non è un problema di dire non voglio andare in ufficio il problema è che oltre a perdere l'operatività che lui dice magari è anche meglio se è stato male e tutto ma perde anche dei soldi e perde anche parecchi soldi all'incirca parliamo di una media di 500-600 euro al mese oltre ad aver avuto un cancro magari o una malattia ma comunque quindi quindi qua il paradosso il paradosso qual è che io io conosco colleghi molti colleghi che hanno contratto il cancro per esempio sì o un'altra malattia è legata a questo tipo di patologia e per paura si sono nascosti hanno nascosto all'amministrazione di avere di avere questo tipo di di patologia addirittura facendosi andandosi ad operare facendo dell'echemio mettendosi in ferie appunto per evitare di essere di essere scoperti e quindi andare avanti appunto per non perdere quella parte economica e quindi chiedete anche appunto più controlli sanitari che siano anche però controllati che voi siate controllati di più perché cercare di prevenire in realtà questi momenti giusto? sicuramente non c'è nessun riconoscimento sulla dipendenza della causa di servizio quello che pretendiamo da tempo come CGL sono i controlli sanitari più approfonditi sul settore quindi un qualcosa di più mirato e non ogni 2-3 anni come avviene oggi ma almeno con una cadenza annuale fuori onda se non mi ricordo male mi ricordava che appunto voi questa distanza l'avete portata anche alla commissione europea siete andati fino a Bruxelles o a Salzburg se non mi ricordo dove a portare questa cosa e qualcuno vi ha ascoltato il problema è che vi hanno ascoltato i francesi giusto? cosa è successo? io sorrido ma insomma è drammatica in realtà il paradosso è quello il lavoro fatto dalla funzione pubblica CGL è nostra italiana gli altri la prendono e la portano avanti noi in Italia ancora no siamo indietro e cosa hanno fatto i francesi? proprio l'altro ieri è arrivata una notizia che per noi è confortante ci spinge ad andare ancora avanti a battere il pugno sul tavolo nella sua essere così sconfortante il dato mi conforta però nel senso che state facendo la battaglia giusta sono riusciti a fare l'esame del capello a 30 vigili del fuoco e sono risultati positivi appunto a questa nanoparticella che è il PFSA e questo è un dato che conferma hanno preso 30 vigili del fuoco a caso gli hanno fatto esame del capello e hanno visto che tutti quanti hanno la particella dentro nel frattempo salutiamo invece Adriana che ci scrive appunto un whatsapp dicendo purtroppo sono arrivata al lavoro vi devo salutare ma è davvero interessante tutto quello che state raccontando quindi vedi come comunque almeno il nostro pubblico è tutto orecchie per voi vigili del fuoco prima abbiamo parlato un attimino dicendo che appunto è anche a volte una questione di famiglia nel senso che è bello anzi soprattutto questa cosa che non è nipotismo o cosa ma è bello vedere come la passione per questo lavoro passa di generazione in generazione e a volte ormai da credo una ventina d'anni quant'è che ci sono anche le donne all'interno la prima donna la prima donna è entrata nei vigili del fuoco circa 25 anni fa 25 anni fa immagino che 25 anni fa non sia stato proprio facilissimo gestire le caserme con l'arrivo di una donna insomma è tutto e quindi immagino che adesso sia tutto completamente a posto potevamo giustificare 25 anni fa il fatto di non essere preparati ma dopo 25 anni abbiamo parecchie sedi di servizio in tutta Italia in tutto il territorio nazionale che non hanno le caserme idonee la struttura idonee per poter ospitare all'interno di una sezione operativa una donna quindi anche lì c'è una discriminazione anche sugli spostamenti su dove poter andare ad operare oltre ai problemi legati alla salute ci sono altri dati allarmanti che riguardano proprio il nostro organico il nostro organico a livello nazionale però io voglio parlare della Lombardia ha capito lo spirito di Good Morning Milano per farvi un esempio vi fornisco alcuni dati per esempio gli interventi dei Vigili del Fuoco l'anno scorso nel 2023 quanti sono stati? circa 120.000 però tutta la Lombardia però i Vigili del Fuoco proprio il personale operativo si attesta intorno ai 3.000 in tutta la Lombardia di cui divisi in 4 turni di 12 ore abbiamo una media di dalle 5 alle 600 persone effettive in servizio ogni giorno su tutta la Lombardia siamo veramente veramente poco a fronte di un personale amministrativo che supporta tutto il lavoro fatto tutto quello che c'è dietro sono 300 circa in tutta la Lombardia anche lì sono pochini e abbiamo una carenza se la vogliamo strutturare proprio sui numeri quasi del 40% cioè mancano più o meno il 40% di personale per far sì che voi facciate il lavoro che già state facendo bene ma insomma magari farlo un po' più anche rilassati e sereni in tutto questo veniamo supportati anche dal personale volontario che abbiamo in Lombardia circa 1500 ragazzi volontari che supportano il personale operativo ma anche loro giustamente lavorando possono riuscire a coprire i turni notturni per esempio e i fine settimana non è quella proprio la soluzione però ci danno anche loro una grossa mano per fortuna che ci sono non dovrebbe essere quella però la soluzione finale assolutamente per esempio lo standard europeo in Europa paesi un po' più avanti c'è uno standard tipo i francesi un vigile del fuoco ogni 1500 abitanti ok noi siamo in Italia siamo uno ogni 15.000 è una questione di zeri ma magari non bisogna fare la conversione con gli zeri infatti noi continuiamo ad andare avanti per inerzia perché appunto per la buona volontà dei singoli per il lavoro che noi crediamo di portare avanti crediamo alla nostra divisa che la portiamo con onore l'onore appunto di dimostrare il valore che continuiamo a dare giornalmente alle richieste di aiuto di tutti i cittadini per qualsiasi tipo di intervento un dato preoccupante è quello appunto della carenza d'organico e nello specifico in Lombardia ci attestiamo appunto a quel numero che ti dicevo io una media del quasi del 40% e sono anni che noi denunciamo questa situazione noi siamo passati dalla chiusura straordinaria e sottolineo straordinaria di qualche mese fa solo di un turno di servizio di qualche distaccamento parliamo di distaccamenti distaccamenti cittadini la sospensione dell'unica squadra operativa in una in un capoluogo di provincia appunto per la mancanza è personale non ho personale chiudo il distaccamento quindi vado a limitare quel soccorso tecnico urgente alla popolazione stessa questa mancanza di organico come mai cioè quali sono le problematiche che ci sono dietro non ci sono assunzioni non ci sono assunzioni la gente non si avvicina no 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 la gente si avvicina ma non ci sono assunzioni non ci sono soldi stanziati dai governi che si succedono tali da su questo siamo democratici vede tutti i governi sono sempre con il contagoccio sempre con quindi non è ma ti dicevo il fatto di si cerca oggi di limitare la chiusura dei distaccamenti limitare anche il soccorso tecnico urgente alla popolazione quindi io non chiudo il distaccamento ma lascio il personale operativo che deve soccorrere non in cinque unità come la legge ci impone e come giusto che sia c'è un equipaggio che deve essere composto da almeno cinque persone lo porto a tre lo lascio operativo ma così vado a limitare il tipo di soccorso che posso che posso andare a fare quindi chi ne paga le conseguenze poi alla fine è sempre il cittadino allora i Vigili del Fuoco negli anni si sono sempre più specializzati questa è una cosa che volevo far conoscere anche è un dato che volevo far conoscere a tutti si sono specializzati in tecniche di soccorso particolari che possono essere i fluviali sul fluviale lavori in quota i nuclei nel BCR che sono quelli che si occupano del nucleare biologico chimico e radiologico la topografia applicata al soccorso abbiamo i piloti di droni gli elicotteristi i sommozzatori potrei stare qui avete lo dico da persona che lavora nella comunicazione uno dei reparti di videoproduzioni più bello che ci sia in Italia i più grandi anche questa cosa magari non lo so se la Giacomo lo sa ma sai che i più grandi operatori di ripresa a livello professionistico in Italia arrivano dalla scuola dei Vigili del Fuoco io ho avuto colleghi per anni che arrivavano ti posso conformare quindi insomma è tanta roba il Vigili del Fuoco abbiamo i nucleo investigativi abbiamo i nucleo cinofili abbiamo gli specialisti sulla ricerca in macerie il famoso USAR strumentazione avanzati per la ricerca di persone scomparse anche questo sta avendo anche un'eccellenza un'eccellenza che però e i laboratori laboratori di analisi sulle analisi di acceleranti di campioni che andiamo a fare come nucleo investigativo mi viene da dire che insomma sarebbe un investimento interessante da fare su di voi però tutto questo tutte queste specializzazioni hanno bisogno cioè per essere per essere mantenuti necessita un periodo di mantenimento che va fatto ogni sei mesi ogni anno che non si riesce a fare nel turno di servizio perché siamo in pochi non si riesce a fare come lo prevede il contratto di lavoro che questi mantenimenti vanno fatti all'interno del turno di servizio ma essendo in pochi si tende ad andarlo a fare nel turno libero quindi il turno libero dal servizio in straordinario ma questo che cosa che cosa significa cioè andiamo a fare il straordinario andiamo ad aumentare i carichi di lavoro di tutto il personale giusto appunto per evitare di andare a indebolire proprio la macchina del soccorso stesso e poi non ci sono i soldi per pagarli questi straordinari ottimo sapevo che era dietro l'argo le ore vanno a finire in una banca delle ore tutto questo è inaccettabile come CGL è inaccettabile la soluzione a tutto questo assunzioni dobbiamo assumere devono assumere quindi ecco io volevo appunto chiudere con questo quali sono le richieste della funzione pubblica CGL che dobbiamo assumere le assunzioni il corpo nazionale oggi conta circa 32 33 mila vigili del fuoco operativi ne servono almeno 50 mila 50 mila siamo in pochi ecco siamo in chiusura so che però appunto voleva rivolgere anche un appello ai più giovani giusto o sbaglio so che so che si era preparato un po' ma dobbiamo dobbiamo andare a chiudere perché c'è il giornale radio che bussa alle porte della nostra redazione quindi Giacomo le lascio la chiusura appunto come CGL Lombardia come funzione pubblica ma soprattutto come vigile del fuoco cosa come vuole concludere intanto concludevo che è solo fermando lo straordinario questi carichi di lavoro eccessivi che riusciamo a sbloccare le assunzioni ok ai giovani quello che cioè volevo parlare voi potete fare sciopero domanda ad esempio sulla carta sì però lo sciopero significa non significa che se ce la chiamate soccorso non prendi la propria assolutamente volevo arrivare lì volevo arrivare la CGL è quella che tutela i lavoratori da sempre questo è quello che volevo dire i giovani è il DP del vigile del fuoco eh sì oltre alla tuta c'è anche il sindacato quello che lotta per tutelare la salute in primis e quindi meno straordinari più una busta paga che è correlata al rischio che corriamo non quella irrisoria che prendiamo più tutela immagino quindi la salvaguardia della salute e assunzioni per colmare la ormai critica situazione di disagio che viviamo tutti i giorni poi non abbiamo il tempo e questo mi dispiace perché volevo parlare della Giacalone torna qui mica la manchiamo ancora ci mancherebbe c'è tanta carne al fuoco c'è tanta roba usate anche voi tanta carne al fuoco oppure si può usare come termine vorrei che mi spegni il fuoco e non mi concio la carne assolutamente bene è stato molto interessante averla qui veramente lavoriamo ancora qui con noi perché sappiamo quanto è importante quello che portate avanti e quanto portate il vostro lavoro e cercare perché io quello che dico c'è che si faccia almeno non ti dico sempre felice soprattutto gli unicorni ma come dire in serenità e con le tutele dovute nel caso e magari con qualche collega in più ricordiamo quanti in Italia siete più o meno attualmente e ne servirebbero almeno 50 ecco questo è il dato con cui volevo ringraziare appunto il nostro ospite di questa mattina grazie mille a Michele Giacalone caporeparto operativo e coordinatore Vigi del Fuoco della FP CGL Lombardia grazie mille davvero porta i saluti a tutto il vostro corpo insomma a tutti i colleghi che sicuramente stanno ascoltando anche in questo momento grazie anche ai whatsapp che stanno arrivando che si congratulano e ringraziano per il grande lavoro che fate perché davvero ci siete sempre quando serve ci siete sempre ci saremo sempre e ci sarete sempre grazie mille grazie mille Michele Giacalone andiamo con un po' di musica e poi appunto il giornale radio e dopo di noi poi torniamo appunto poi dopo ci sono tutte le notizie del giornale radio il Cristalistori tanto ancora fino a tutta la mattinata qui con Cristal Radio poi Brogio Curti insomma tutta la programmazione di Cristal Radio Rosemite con I don't wanna miss a thing qui alle 8.02 26 minuti mercoledì 29 maggio Cristal Radio Good Morning Milano Good Morning Milano a fra poco giornale radio adesso le notizie nazionali e tutte le notizie anche sulla Lombardia poi con i giornali e i siti internet qui a Good Morning Milano Notorious Notorious Duran Duran 8 e 17 minuti Cristal Radio Good Morning Milano seconda parte di trasmissione ancora molto interessante l'intervento appunto della FPCGL Lombardia dei Vigili del Fuoco che potete riascoltare rivedere su goodmorning.milano.it insomma sono contento che sono quegli ospiti che insomma ci raccontano delle storie che a noi simbano così assurde e invece poi insomma questo è anche lavorare per tutti noi cittadini siamo ben contenti appunto di aver avuto qui con noi i Vigili del Fuoco appunto la funzione pubblica CGL Lombardia dei Vigili del Fuoco torniamo invece a leggere un po' le notizie di Milano perché Repubblica Milano dà questa notizia che mi sa un po' di allarmismo da una parte dall'altra un po' di benzina sul fuoco appunto rimaniamo in tema anche su quello perché si parla dell'edilizia a Milano Repubblica Milano 100 milioni in meno nelle casse comunali per la frenata edilizia è la previsione del 2024 conseguenza dei minori oneri per le inchieste che hanno paralizzato il settore in città nel 2024 potrebbero arrivare meno oneri di urbanizzazione per 100 milioni rispetto a quelli previsti tutto tanto salato sembrerebbe quindi il conto che secondo Palazzo Marino porta il caos sull'urbanistia che sta presentando appunto alle casse comunali questo conto salatissimo una cifra che è ancora una stima iniziale lanciata ieri casualmente da chi? dall'assessore della rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi durante un convegno di Assinpredil Ance sul tema appunto della casa sta di fatto che nel 2023 c'è stato l'introito però è nelle parole che bisogna sempre vedere la differenza c'è stato l'introito record di 220 milioni di euro quest'anno se se ne aspetta 100 in meno in realtà si dice che dovrebbero essere 150 milioni quindi insomma diciamo un 100 milioni in meno però manca un dato in questo articolo che non riesco a trovare che è ok nel 2023 c'è stato l'anno record 220 milioni ma nel 2022 quant'era? Perché bisogna capire quello nel senso 100 milioni in meno rispetto all'anno scorso ok ma quanti milioni in più abbiamo cubato nelle casse comunali con l'edilizia nel 2023 rispetto agli anni prima perché bisogna capire se siamo in media in linea o no sicuramente se tu ti fai ma questo è un errore un po' della finanza in questi termini se io faccio i conti sempre e solo su quello che avevano detto l'anno prima ovvio che allora quando abbiamo avuto Covid l'anno dopo sembravano l'anno sempre tutto in più tutto in più e beh grazie nel 2020 non è successo niente praticamente ma qualsiasi cosa allora c'era l'inquinamento era sceso a livelli pazzeschi è visto l'inquinamento nel 2020 anno è ovvio sono stati fermi tre mesi poi gli investimenti immobiliari in città sono alle stelle nel 2022 e vabbè nel 2020 2021 nessuno ci investiva quindi è ovvio insomma bisogna capire questo quindi 100 milioni in meno nel 2024 è un dato importante per farvi capire l'esempio che porta Repubblica Milano è 100 milioni sono la quota che dal 2025 costerà al comune il rimborso per la M4 sono 100 milioni all'anno che il comune dovrà dare dal 2025 in avanti per ripagare la M4 ok quindi insomma sono tanti 100 milioni di euro sono tantissimi però forse mi viene da dire uno basare la politica finanziaria di una città su quanti oneri finanziari ti danno i costruttori non mi sembra proprio sta gran genialata e scusate se la dico così male però in una città dove diciamo che non abbiamo spazio dobbiamo rigenerare dobbiamo preservare il verde abbiamo un problema 1 milione e 400 mila abitanti in una città che non ha servizi per 1 milione e 400 mila abitanti e quindi io questo già lo dicevo all'epoca quando è uscito la notizia e che Sala era felice contento diceva siamo 1 milione e 400 mila abitanti Milano finalmente supera 1 milione e 400 mila abitanti beh non c'è da festeggiare niente ok niente c'è da festeggiare da questo punto di vista anche perché appunto se noi basiamo che i servizi cittadini verranno dati solo e esclusivamente grazie al fatto che ogni anno arrivano nelle casse comunali 200 milioni di oneri di urbanistica beh c'è un problema l'anno in cui te ne arrivano solo 100 ok tra parentesi poi nel bilancio di mille miliardi parliamo veramente di miliardi di euro forse non è che proprio quei 100 milioni siano poi così prepotenti cerchiamo altre soluzioni sicuramente sala andrà a Roma a bussare 30 second to mars stack 8 e 24 minuti prima di andare in pubblicità ancora un pari di notizie che si legano in realtà comunque al tema dell'edilizia Milano che ricordiamo appunto secondo le stime del comune di Milano secondo le stime dell'assessore alla rigenerazione urbana Tancredi dice che arriveranno 100 milioni di euro in meno nelle casse comunali per la frenata edilizia dovuta soprattutto alle inchieste che ci sono in corso invece a livello di palazzi che vedranno la luce la torre Velasca vedrà finalmente la luce e l'inaugurazione entro fine anno appunto una festa per la riapertura la nuova torre Velasca sarà un faro brutalista nella notte di Milano entro fine anno festa per la riapertura quando brutalista in realtà non è un aggettivo negativo ma è lo stile architettonico di cui fa parte la torre Velasca quindi segue appunto le linee gli stilemi del brutalismo appunto un rivoluzionario progetto di illuminazione completa la riqualificazione del più famoso grattacielo stoico di Milano sono giorni di prove generali appunto in questa settimana perché si vede che stanno facendo appunto le prove per l'accensione di quello che vuole diventare il faro di Milano operaia al lavoro per collaudare forse l'aspetto più scenografico della totale riqualificazione della torre Velasca il progetto illumino tecnico cambierà completamente il volto notturno della gigantesca brutalista della gigantessa scusate brutalista sto leggendo da Repubblica Milano e dalla parte di città su cui si affaccia davvero un progetto molto molto interessante che appunto vede l'accensione in questi giorni le prove generali ci sono poi appunto tantissime dentro è stata riqualificata e ricostruita praticamente tutta la torre pronta per essere inaugurata e vedrà appunto anche molto probabilmente una festa verso fine anno ovviamente tutti attendiamo Natale per vedere come invece verrà illuminata appositamente per le festività natalizie ma insomma abbiamo ancora tanto e tanto tempo prima di arrivare a quel giorno per adesso godiamocela così e anzi grazie che abbiamo di nuovo questo faro nella notte milanese che è la mitica torre Velasca Bruno Mars That's What I Like 8 e 36 minuti Crystal Radio sempre qui per raccontarvi un po' quello che succede a Milano e cosa succede domani domani giovedì 30 maggio a Proda in piazza Luivetti l'appuntamento sull'innovazione urbana Utopian Hours leggo da Corriere della Sera Milano il festival arriva in città Biraghi codirettore dice Milano deve essere più ambiziosa bisogna guardare ad altri modelli di progettazione delle metropoli ebbene sì è un festival appunto sull'innovazione urbana e il city making ideato e organizzato da Stratosferica che arriva finalmente a Milano giovedì 30 maggio dalle 14 alle 20 ospitato da Step in piazza Olivetti dopo sette edizioni a Torino finalmente arriva a Milano e come mai a Milano viene chiesto appunto a Biraghi che dice abbiamo iniziato a Torino perché ci sembrava la città giusta un luogo all'avanguardia per poter sperimentare questo nuovo schema e format che abbiamo appunto pensato ma adesso Milano pone dei quesiti aperti tra cui l'ambiente il caro affitti l'assenza di parchi ora la città secondo noi ha bisogno di ascoltare altri modelli a cui magari potersi anche ispirare quali sono le sfide che il capologo Lombardo dal punto di vista urbanistico dovrà affrontare beh è una metropoli ritascabile così la definisce appunto Biraghi cioè ha una visione internazionale ma le sue dimensioni alla fine sono molto ridotte ricordiamo infatti che Simone Lunghi l'ha sempre definita la più piccola metropoli d'Europa ed è quello ma insomma siamo anche il nostro vanto anche quello di essere un piccolo un piccolo bijou come poter reinventare la metropoli beh innanzitutto attraverso esercizi di immaginazione ad esempio dice Biraghi penso a Washington dove sono state create delle connessioni a ponte tra quartieri diversi queste soluzioni sono state possibili perché coordinate da attori privati che si sono interfacciati con altri operatori della città bisogna avere il coraggio di osare di pensare su larga scale anche progetti atipici e porta un esempio che dice alla domanda c'è un caso di riferimento a cui Milano potrebbe guardare a cui potrebbe ispirarsi Biraghi dice quello di Copenhagen volendo non citarne uno quello di Copenhagen in pieno centro come per noi potrebbe essere più o meno Cairoli per fare il conto è stato trasformato un termovalorizzatore cioè c'era un termovalorizzatore una cimiliera praticamente lì in centro un inceneritore in centro c'era che è stato dismesso ma è stato valorizzato anzi cambiato è fatto diventare un'altra cosa un'attrazione per la città pensate che c'è persino sul tetto una pista da sci secondo Biraghi è un esempio calzante del perché quell'infrastruttura che al compito di bruciare i rifiuti è stata resa un elemento peculiare nel cuore della città danese quindi è importante andare ad analizzare perché appunto era un inceneritore una roba orribile da vedere in un centro della città bene è stata riqualificata e riorganizzata e adesso è un simbolo di quel centro storico di quel centro di quel centro città l'invito che fa Biraghi dice proprio questo bisogna osare sparigliare le carte il coraggio è quello che giungo io che forse ci vorrebbe che a volte manca la paura è ovviamente anche per un sistema che non aiuta a sparigliare le carte troppo o a usare troppo abbiamo visto i ricorsi non ricorsi e poi la gente viene indagata anni di processi che poi scoprile che niente era successo insomma un tema davvero complicato ma che ha bisogno sicuramente di un intervento non solo del pubblico non solo del privato ma si devono mettere veramente insieme non l'uno al servizio dell'altro ma si devono mettere insieme in modo da poter costruire pensare creare diciamo ideare una città che non sia più solo ideale ma che sia reale concreta e che sia quella che dà le risposte che tutti i cittadini vogliono per il futuro di questa città una città che abbiamo tutti quanti che ci piacerebbe vedere sempre più splendente anche con tutte le sue difficoltà sfaccettature che fanno parte di ogni metropoli anche della eccitazione sempre di Simone Lunghi della metropoli più piccola d'Europa Enrico Ruggeri come lacrime nella pioggia e insomma che ci siano lacrime che scorrono nella pioggia nella inutilità della rete invece è palese ormai a tutti e ahimè arriva la slennesima storia brutta di come i social vengono usati nella maniera peggiore perché si parliamo di Silvia Rossi un nome che magari non a tutti è familiare lei è un influencer detto male in realtà lei si creò un po' di anni fa ormai un gruppo una pagina facebook non so cosa si usasse all'epoca come termine comunque i trentenni era questo gruppo dove si facevano video meme che raccontavano appunto di di com'era la vita dei trentenni ai tempi dei social e qualche giorno fa ha fatto un video dove ormai non più trentenne ma quarantenne dice avere quarant'anni e trovarsi a ballare in discoteca fino a tardi e appunto era un ovviamente mi viene da dire ma forse non così ovvio video ironico lo sono andato a vedere ironicissimo c'era una parodia si capiva che era uno scherzo si capiva che era una no quando mai qualsiasi qualsiasi mi viene da dire posso dirlo posso dirlo qualsiasi pirla ha voluto scrivere e commentare in maniera ovviamente da haters il suo la sua performance e infatti replica replica agli haters che l'ho insultata su instagram per il suo fisico e gli risponde fate ballare la vostra ciccia e fregatevi di chi giudica sempre perché si la content creator è stata asperamente criticata per la sua forma fisica anche dalle donne tant'è che infatti ha detto Silvia ha detto non fatemi parlare di sorrellanza è meglio sostegno in primis da Kim da Cristina Fogazzi cioè l'estetista cinica che anche lei appunto sappiamo essere molto sensibile al tema della body positivity e al al contrastare il body shaming che spesso viene fatto sui social bene ha voluto appunto fare risprimere solidarietà per la collega Silvia Rossi la creator che appunto non ha potuto neanche postare un qualsiasi video così scherzoso dove ballava perché subito gli hanno detto che non andava bene ACDC high grade to hell e voglio però tornare sul tema che vi ho detto poco fa appunto Silvia Rossi dei trentenni questi post che ha fatto dove lei balla e fa vedere il disagio in realtà così ma ma è scherzoso è una parodia di una quarantena che si trova fuori luogo a ballare in una discoteca i commenti vi dico un po' quelli che sono arrivati giusto per farvi capire meno lasagne e più cardio più cardio così poi vedi come balli oppure ridicola semplicemente oppure sequestra a 40 anni io allora ne ho meno di 30 cioè cose del genere anche da altre donne oppure ne dimostri almeno 50 questi sono il tema un po' quello che viene grazie anche Erika che ci scrive al 3317853555 dice che brutta storia questa i social sono proprio lo specchio della nostra società brava a schierarsi pro inclusione ma poi cattivi con una tastiera davanti è vero perché fa specie vedere su Instagram sui social tutta questa voglia di inclusione e poi però appena si può subito gli haters perché non è la battuta ragazzi non è la battuta non è che fa ridere perché la battuta io la posso fare quando io arrivo col fiatone e che arrivo in uno studio e loro mi dicono dai era dall'84 che non correvi finalmente il corso e la va a far ridere quella va bene e ci sta sono i miei collaboratori sono i miei amici che me la fanno quindi gente con cui ho un'intimità che è giusto che si sia anche dell'ironia e dello scherzo ma sui social davvero è completamente diversa la storia e non va bene che sia così sdoganata l'idea che chiunque possa scrivere quel che vuoi tanto poi alla fine non è importante tanto è solo su una tastiera e non è così è interessante invece quello che ha risposto però Silvia Silvia Rossi che dice dov'è che l'ho trovato qua ecco che dice ma quanti si domanda questo Silvia ma quanti disturbi alimentari quanto botox quanti filler anche solo a 20 anni dovremmo ancora vedere per cosa per farsi dire da Instagram o qualsivoglia social che wow siamo stupendi per innescare l'ennesima gara a chi ce l'ha fatta più degli altri e a chi ha più o meno diritto di altri di dire fare o vivere certe cose a che prezzo perché questo è quello che si chiede Silvia Rossi e devo dire che mi chiedo anch'io che si chiede anche come dicevamo appunto anche Cristina Fogazzi l'estetista cinica che ha semplicemente commentato e ripostato la sua storia la storia di Silvia Rossi con un laconico allucinante tutto perché è vero è allucinante soprattutto nel 2024 soprattutto come ci diceva Ergia con il suo whatsapp di prima in quel mondo che tanto fa vedere di essere così inclusivo che tanto spesso volentieri quando parliamo di inclusione o di body shaming o di altri tipi di diritti per le comunità LGBT e così ci viene detto ma dai ma ancora nel 2024 c'è bisogno di dire questo nel 2024 c'è bisogno del pride nel 2024 c'è bisogno della sfilata di body positive io ti direi no non ce n'è bisogno ma la storia ci sta dimostrando che invece ce n'è bisogno e come l'inclusività non è solo mettere una bandierina della pace mettere una bandierina arcobaleno mettere il fiocco rosso verde arancione o viola sul nostro profilo instagram è viverla l'inclusività è sapere che siamo tutti esseri umani e facciamo qui quello che possiamo nel bene o nel male ma cerchiamo di farlo nella migliore delle maniere e spesso e volentieri non capiamo davvero che quello che scriviamo sui social è una vera propria pugnalata quello strumento lo strumento dei social ragazzi ve lo dico sempre è uno strumento politico nel momento in cui metti dei like perché decidi da che parte stare da che parte schierarti e può essere un'arma un'arma molto molto tagliente quando scrivi qualcosa a qualcuno che tu pensi magari possa essere interpretato in una maniera ma che non puoi sapere come verrà interpretato da colui che riceverà quel colpo siamo arrivati questo è un suggerimento segnatevelo sì so che se adesso si so che se adesso fate shazam sicuramente vi prende la mia canzone che ho cantato anzi l'algoritmo dei social l'avrà bloccato perché non avevamo i diritti per mandare questa canzone è un indizio per domani giusto Elisa mi confermi che è un indizio per quello che succederà domani qui a Good Morning vero? sì sì Elisa la produzione mi diceva che è ok che siate collegati con Crystal Radio che ci stiate vedendo su Milano News o che stiate ascoltando il nostro podcast bene l'appuntamento è comunque per domani alle 7 qui con Good Morning Milano ciao a tutti buona giornata e a domani